10 kg di droga fra ascisce e marioana posti sotto sequestro, oltre a 25 cartucce calibro 7,65. Questi numeri di un'operazione della squadra mobile della questura di Pescara che ha portato ai domiciliari un 36enne e un ragazzo di 23 anni. Sequestrate agende con nomi su cui sono in corso approfondimenti. Si lavora per capire da dove fosse arrivata la droga e a chi fosse destinata. Il soggetto ha incensurato, lo ha seguito, lo ha studiato, ne ha osservato i movimenti fino a coglierlo nella flagranza della detenzione nel pomeriggio di ieri. Un quantitativo del genere tutto insieme è indice di uno spessore criminale di coloro che di tale quantitativo avevano la disponibilità diverso da quello degli spacciatori su strada che abbiamo arrestato in altre occasioni. A questo quadro si aggiungono le 25 cartucce 7,65 ritrovate nell'edicola di cui questo signore aveva la disponibilità che ci pongono degli interrogativi a cui speriamo di dare risposta prossimamente. Sicuramente il soggetto più adulto aveva un profilo diverso perché è colui che aveva la disponibilità dei nascondigli, dei garagi in cui è stata ritrovata la droga. Dobbiamo verificare quale fosse il livello di collaborazione del soggetto più giovane che peraltro è da noi conosciuto perché è arrestato sempre per droga in diverse occasioni. Droga confezionata, diretta dai destinatari i cui nomi attivi erano già stati indicati in codice dagli stessi arrestati a cui noi adesso tenteremo di dare anche un nome reale.